ti dico la verità siamo rimasti un po con l'amaro in bocca perché perdere prendere un gol al 48 secondi dalla fine ti lascia un po di amaro in bocca no perché stiamo vincendo 3 a 2 abbiamo preso il 3 a 3 e poi sulla nostra battuta stavamo facendo di nuovo il 4 a 3 è stato bravissimo mario corrente come come sono stati bravi tutti io credo che oggi da parte tutte e due le squadre sia stata una partita giocata da altissima intensità livello molto alto chi è venuto a vedere la partita si è divertito a me la cosa che mi è piaciuta di più è che è stato è stato un derby innanzitutto corretto le tifoserie sugli spalti hanno incitato ognuno la propria squadra e questa è una cosa che si annoia allora ha dato molta carica e poi pure in campo i ragazzi hanno pensato solo a giocare ma ti dico la verità non c'è stato nemmeno tempo di 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 litigare di di non lo so fare qualche fallo pure pochi falli sono stati fatti perché veramente si giocava a ritmi molto alti quindi oggi ha vinto veramente il sud pontino sud pontino che fa vedere come si come si gioca a calcio a 5 perché veramente è stata una partita spettacolare fatto vedere come si sta sugli spalti e quindi mi piace sottolineare questo oggi ha vinto il sud pontino per quanto riguarda i miei ragazzi gli ho fatto i complimenti li rifaccio adesso anche qui con te perché sono stati bravi dal primo all'ultimo sono stati in campo sono rimasti in campo per tutta la partita sia di testa che di cuore perché è stata una partita che si è visto il cuore in campo quindi sono felice di allenare questi ragazzi credo che la società è felice di avere a disposizione questi ragazzi e nulla è stata una grandissima partita e per noi era un punto importante è un punto importante però adesso già testa alla prossima perché da adesso in poi non non si può più sbagliare è un punto importante però allora guarda alla prossima